Sei innamorato? La porterai a cena fuori? Hai organizzato tutto per il giorno più romantico dell'anno? Ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo San Valentino? Dovete sapere che l'attribuzione del patronato sugli innamorati non ha nulla a che vedere con la realtà storica del santo, che poi non si trattava di un solo Valentino. Le fonti ce ne indicano almeno due. Un chierico di Roma, ascritto alla fine del III secolo, e il vescovo della città di Interamna, vissuto attorno alla metà del IV secolo. In merito a quest'ultimo, nel Martirologium Hieronimianum, il più antico catalogo di martiri cristiani, è riportato che il 14 febbraio a Terni si tiene la festa di San Valentino, vescovo e martire. A questo che vi ho appena detto aggiungiamo che Papa Gelasio, attorno al 495, in ottemperanza alla morale e all'idea di amore dei cristiani, proibì ai fedeli di partecipare alla lasciva festa pagana di Lupercalia, antica celebrazione romana legata ai riti di fertilità e purificazione, tipici della fine dell'inverno, che avevano luogo fra il 13 e il 15 febbraio. Qui venivano messi in scena, sia realmente che simbolicamente, atti sessuali e processi riproduttivi. Potete immaginare che cosa poteva succedere. Nonostante la censura, nel corso dei secoli, la memoria di questi rituali non scomparve del tutto. Più tardi, nel basso Medioevo, fu un gruppo di poeti e scrittori di corte anglosassoni che operò l'associazione fra la festività romana e Valentino, mentre uno di loro, Geoffrey Chaucer, attorno al 1382, inserì questo spunto nel suo poema dal titolo Il Parlamento degli Uccelli, componimento in versi in cui un'assemblea di volatili deve pronunciarsi sulle modalità atte alla scelta del partner in amore. Ad ogni modo, il binomio funziona e la festa dell'amore si consolida, almeno nella tradizione anglosassone, se nel 1600 Shakespeare, nel suo amleto, fa fare al personaggio di Ophelia la menzione del giorno di San Valentino. Molto più tardi, nel 1797, un editore britannico pubblicò The Young Man's Valentine Writer, che conteneva decine di versi a carattere amatorio, suggeriti per il giovane amante incapace di comporne di propri. L'idea prese piede e l'invio o lo scambio di biglietti di auguri a tema sentimentale, detti Valentine, divenne popolarissima, ancor di più quando nel 1839 venne inventato il francobollo, che permise un notevole incremento della corrispondenza, estesasi poi a semplici auguri per specifiche ricorrenze. Negli Stati Uniti i primi biglietti vennero prodotti e venduti in serie dopo il 1847, da una certa Esther Holland, che prese spunto da una carta d'auguri recapitata al padre, proprietario di una libreria e cartoleria nella città di Worchester, Massachusetts. Stessa città dove nacque Harvey Ball, creatore di un'icona oggi diffusissima, lo Smile, di cui vi raccontiamo la storia in un'altra pillola. Nel 1868 l'azienda britannica di cioccolato, Carburi, creò le Fancy Boxes, scatole di cioccolatini decorate e a forma di cuore, da regalare per San Valentino. Nella seconda metà del Novecento lo scambio di carte d'auguri si è estesa a tutte le festività. Oggi sono più di 150 milioni i biglietti d'amore scambiati per la festa di San Valentino. Cifra seconda solo al Natale, festività a cui si lega la storia di un altro santo, San Nicola. Se sei curioso di sapere il perché, fai pure clicca sul link in sovraimpressione. Nella società dei consumi il culto del santo subisce un'ulteriore variazione, catalizzata da un'incredibile azione di marketing, promossa da tutte quelle imprese che legano parte del loro giro d'affari all'equazione amore, San Valentino vendita. La fortuna del santo conferma che la devozione è un fenomeno in divenire, qualcosa che palpita, qualcosa che si trasforma a seconda dei tempi e delle nuove esigenze di uomini e donne. Bene, siamo giunti alla fine. Se la clip vi è piaciuta mettete pure like e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Ci vediamo alla prossima villola. Ciao! Per quanto riguarda l'iconografia del santo, non avendo la fama di altri sommi colleghi, non è così diffuso nella pittura sacra e se si incontra indossa abiti vescovili, il copricapo detto mitria e il bastone pastorale. Per tutti coloro che non sono in una relazione, non vi preoccupate. Se vi capita di conoscere una persona, cercate di ascoltare quello che vi dice la vostra interiorità, il vostro istinto, che sa sempre cosa fare e apritevi all'esperienza. Per noi, la vita ha fatto in modo che in ogni caso si vince. Se andrà bene, avremo una relazione dalla quale potremo capire meglio chi siamo. Se andrà male, impareremo a convivere con il dolore, per poi alleviarlo ed estinguerlo, quindi trasformarci guadagnando nuova energia vitale e consapevolezza.